Non si placano le polemiche sull'arrivo di nuovi profughi nel Piacentino e in particolare a Rivergaro. A scendere in piazza la Lega Nord, che questa mattina ha fatto un sit-in di protesta davanti all'abitazione di Via Martiri della Libertà, dove presto troveranno alloggio i profughi. Secondo i manifestanti, si tratterebbe di un business che non ha nulla a che vedere con l'accoglienza. A protestare non solo simpatizzanti della Lega, ma anche tanti cittadini che debbono l'arrivo di ondate di stranieri. Numerosi abitanti della zona chiedono attenzione alle famiglie in difficoltà che già vivono sul territorio e che, a loro dire, meritano per prime di essere aiutate e sostenute dall'amministrazione. Il carroccio dal canto suo ha pensato di esporre sul cancello esterno dell'abitazione alcuni cartelli invitando gli amministratori comunali a dimettersi o ad ospitare gli stranieri nella sede del PD. La manifestazione, dai toni del tutto pacifici, è stata controllata a distanza dai carabinieri di Rivergaro e dai vigili della Polizia Municipale.